La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, ecco qui tecnologia robotica, anche qui abbiamo diversi settori. Il premio va a AutoStore. E premiamo AutoStore per l'ampia competenza e professionalità, l'approccio pionieristico e il focus sull'innovazione. Per il supporto continuo al successo dei clienti e la ricerca della sostenibilità in ogni soluzione. E poi quando vicino alla parola leadership c'è sostenibilità è ancora meglio. Benvenuto, grazie. AutoStore, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, tecnologia robotica. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Le Fonti Awards per parlare naturalmente di eccellenze. In questo caso punteremo la nostra attenzione su AutoStore, un'azienda scandinava norvegese che nasce negli anni 90 con un obiettivo ben preciso, quello di migliorare il lavoro di magazzino, attraverso la robotica, la digitalizzazione. Infatti AutoStore è un'azienda pioniera nell'ambito proprio della tecnologia robotica, tanto che è stata insignita ai nostri Le Fonti Awards del titolo di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, tecnologia robotica. Ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, ovvero l'ingegnere Francesco Mantegna, managing director di AutoStore, a cui do il benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie di l'invito. Ecco, dottor Mantegna, la richiesta di automazione è sempre crescente, sempre più crescente in questo momento, soprattutto nell'ambito dello stoccaggio industriale. Voi avete definito tra l'altro un nuovo sistema che è lo stoccaggio cubico robotizzato. Di cosa si tratta esattamente, quali sono i diversi ambiti di applicazione? Sì, se mi permette faccio un breve escursus per raccontarle un po' come è nato questo sistema, perché la storia è singolare ma fa capire un po' anche il percorso della nostra azienda. Azienda che nasce da quella che può essere definita la sua mamma in qualche modo, che è la Ateland, che negli anni 90 era un distributore di componentistica elettronica in Norvegia e si è imbattuta nell'esigenza di aumentare la sua capacità di magazzino, il business andava molto bene e quindi si sono trovati alle prese con una necessità, un bisogno. Questo bisogno è stato risolto inventandosi quello che poi è diventato il sistema autostore che ha dato vita all'azienda. Di cosa si tratta? Si tratta di un sistema che fondamentalmente risponde all'esigenza di utilizzare nel miglior modo lo spazio disponibile in magazzino, rendere l'attività degli operatori più semplice e libera da errori e fare in modo che questi operatori di conseguenza non perdano il loro tempo a percorrere metri e metri e che poi diventano nel giorno decine, magari anche centinaia di metri a andare a stoccare i materiali in magazzino e a recuperarli, ma si limitano a stare fermi nella loro posizione a fare quelle attività che sono realmente a valore aggiunto. È un cosiddetto sistema goods to man. Quindi il concetto del sistema robotizzato è quello di condensare tutti i materiali stoccandoli in cassette standard e impilare le cassette una sull'altra. Queste cassette vengono poi movimentati da robot che nella parte superiore del sistema li spostano, li movimentano e appunto li rendono disponibili agli operatori che fanno i prelievi che sono necessari. Chiarissimo. Ecco, un sistema davvero innovativo che consente appunto di migliorare l'attività di magazzino e di anche influire in maniera positiva poi sui tempi e sul lavoro delle persone. Abbiamo detto che i sistemi robotizzati sono sempre più richiesti in questo contesto anche per la crisi sanitaria perché naturalmente c'è bisogno di maggior sicurezza. Voi come vedete il vostro mercato di riferimento nei prossimi mesi? Allora, noi siamo positivi e ottimisti su quello che sarà lo sviluppo nel futuro del mercato. Diciamo che ci sono due macro fattori tra gli altri che influenzano il mercato. Sicuramente uno l'abbiamo anche visto con la crisi sanitaria mondiale e ha portato ad un'accelerazione da parte lato consumatore a fare degli acquisti online per ovviamente limitare gli spostamenti e i contatti e si è visto chiaramente un forte aumento della domanda di commercio elettronico. I nostri sistemi sono perfetti per il cosiddetto fulfillment, quindi l'evasione degli ordini di quegli operatori che lavorano nell'ambito del commercio elettronico e quindi diciamo che rispondono a questo bisogno del mercato. Questo è un fattore. Il secondo fattore è che sia per una ragione tecnologica, quindi per l'innovazione tecnologica che avanza a grandi passi, sia però anche per l'attitudine delle persone, l'automazione sta prendendo sempre più piede. Quindi da un lato l'innovazione tecnologica avanza, ma dall'altro lato le persone si avvicinano all'automazione in maniera con un po' più di confidenza. Se aggiungiamo che il nostro sistema è un sistema piuttosto friendly, è un'automazione leggera, modulare, flessibile, che non spaventa, diciamo che il mix di questi ingredienti ci fa essere ottimisti. Noi abbiamo visto dei tassi di crescita importanti negli anni passati e la nostra proiezione verso il futuro è ancora buona, è ottimistica. Certo, ecco, abbiamo citato delle parole chiave, sicuramente innovazione, tecnologia, robotizzazione, però un'altra parola chiave per comprendere il contesto di autostore è anche sensibilità nei confronti delle politiche green. Ecco, ci vuole spiegare la vostra strategia in questo ambito? Certo, allora, autostore è un'azienda molto attenta alla sostenibilità a 360 gradi e ha una grossa attenzione all'impatto che ha sulla società, sugli stakeholder, quindi sui lavoratori innanzitutto, ma anche sui clienti e diciamo su tutti quelli che sono gli stakeholder in generale. Anche qui ci sono due direttrici. Allora, una direttrice che è appunto quella di cui l'ho parlato della sostenibilità, noi abbiamo abbracciato il programma delle Nazioni Unite per la sostenibilità e quindi abbiamo quel riferimento e lavoriamo secondo quelle linee guida anche seguendo quella che è la tassonomia dell'Unione Europea per quello che deve essere il percorso che le aziende fanno per essere sostenibili e quindi in termini di consumi energetici nei nostri edifici, nei nostri uffici, quello che è l'impatto dei nostri siti produttivi e quindi in tutta la catena del valore. Quindi diciamo che questo è un tema che riguarda più i processi interni di autostore. Dall'altro lato il nostro prodotto è un prodotto che, e ha vinto anche alcuni awards per la sua sostenibilità, è un prodotto che consuma molto poco. Per darvi un'idea, 10 robot hanno un consumo paragonabile a quello di un aspirapolvere di casa. Quindi questo fa capire come, passando da un sistema tradizionale di magazzino in cui vengono normalmente utilizzati i carrelli con le batterie che hanno un impatto energetico non banale, a un sistema come il nostro i consumi energetici si riducono enormemente. Se poi aggiunge che i robot per lavorare non hanno bisogno di riscaldamento, di luce elettrica o condizionamento, complessivamente il beneficio energetico è importante. Certo, è un beneficio anche energetico per l'azienda perché sappiamo in questo momento di grave crisi energetica, insomma il poter farà meno anche di determinate necessità che vengono appunto spazzate via dalla innovazione tecnologica, beh sicuramente è un vantaggio per l'azienda stessa oltre che poi per il contesto ambientale sicuramente. Sì, 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 esattamente. Diciamo che il tema che è sempre stato un tema a cui Autostar ha prestato molta attenzione diventa sempre più attuale oggi con questo corsa, rialzo dei prezzi, dei beni energetici. Quindi anche questo è un altro ulteriore punto che ci fa essere ottimisti per il futuro. Ecco, ecco, parlando di futuro, certamente insomma la robotizzazione è un concetto con cui abbiamo e avremo sempre di più a che fare e certamente ecco la robotizzazione del lavoro porta dei vantaggi molteplici, quelli che lei ha descritto, però instilla anche qualche dubbio, come ad esempio appunto la sostituzione del lavoro e delle figure umane. Lei ecco, a questi dubbi come risponde? Ma allora, diciamo che questo tema ricorrente è un tema di cui si discute da tantissimo tempo. C'erano dei timori analoghi anche quando sono stati inventati i computer che venivano visti come una minaccia per, diciamo, tutte quelle persone che avrebbero avuto un impatto e quindi una riduzione del loro lavoro perché i computer avrebbero svolto una parte delle loro mansioni già agli albori. Tanto per, quindi i dati ci dicono che invece l'occupazione è salita negli ultimi anni. Allora, se andiamo a guardare oggi nel mondo ci sono circa 20 milioni di robot complessivamente, di cui circa un 3 milioni sono nelle fabbriche e i restanti sono robot che sono magari nei magazzini o che rispondono a esigenze diverse, sono anche quei robot che utilizziamo per falciare il plato di casa, piuttosto che quelli che fanno anche assistenza, eccetera. Se noi guardiamo alle fabbriche e guardiamo per esempio a paesi come la Corea del Sud e il Giappone, laddove il tasso di robotizzazione, quindi il numero di robot ogni mille abitanti, ogni 10 mila abitanti, che sono i numeri che si usano normalmente come indicatori. Si vede come negli ultimi anni, per esempio nell'industria automotive in Corea del Sud c'è un robot ogni 10 lavoratori, quindi il tasso è piuttosto alto, si vede però come ancora è necessaria la presenza delle persone, anche in quel contesto altamente automatizzato, però nonostante questa altissima densità di robot, il tasso di disoccupazione in Corea oggi è inferiore al 3%, quindi siamo sostanzialmente in una situazione di piena occupazione. Una ricerca della Yale University che ha preso come riferimento l'andamento dell'industria giapponese dal 1978 al 2017, ha visto come l'introduzione dei robot ha addirittura aumentato l'occupazione, cioè presi mille lavoratori, ogni robot in più che si aggiungeva per ogni mille laboratori portava un tasso di aumento dell'occupazione del 2,2%, quindi i dati da questo punto di vista sono piuttosto chiari, ma non solo, io personalmente penso che i robot aiuteranno le persone a non fare più quei lavori ripetitivi, faticosi, usuranti che facevano ieri e in parte fanno oggi, ma anzi daranno la possibilità alle persone di fare dei lavori in cui portano la loro umanità, il loro valore aggiunto. Quando mi capita di andare in quei centri commerciali magari a comprare prodotti di elettronica in cui ho bisogno dell'aiuto di qualche operatore, di qualche persona e faccio fatica a trovarli, perché magari invece le persone sono o alla cassa ferme ad aspettare qualcuno che arrivi a pagare, quando invece si potrebbero utilizzare dei sistemi automatizzati, oppure a fare il riempimento degli scaffali, anche quelle un'attività che possono fare i robot, mi piange un po' il cuore, nel senso che si potrebbero lasciare quelle attività ai robot, alle macchine e fare in modo che invece le persone siano ad assistere i clienti e a portare quello che è il loro valore aggiunto. Sì, sì, insomma, chiarissimo. La tecnologia e la robotizzazione come un aiuto, come un sostegno e non come uno spettro che rubo al lavoro naturalmente per le realtà e le aziende che vogliono approcciarsi a questa visione e non restare legati insomma al passato, perché il futuro inevitabilmente sarà questo. Ingegner Mantegna, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi alle Fonti Awards e ancora complimenti naturalmente alla vostra realtà per il premio che avete ricevuto. Grazie di nuovo e arrivederci.